Sciopero di 4 ore venerdì 1 febbraio per i dipendenti di Tua. La Filt CGL infatti ha proclamato uno sciopero del personale viaggiante dalle 9 alle 13 e per le ultime 4 ore di turno del personale ufficio e officine, alla base della protesta delle contestazioni riguardanti il trattamento economico dei dipendenti, il peggioramento dei servizi, carenza di personale ed altre problematiche segnalate da diverso tempo. Alla base delle motivazioni di questo sciopero indetto dalla Filt CGL a Bruzzo Molise per il 1 febbraio e che interessa i lavoratori della società di trasporto Tua, ci sono ragioni che attengono innanzitutto la sfera organizzativa aziendale, la pessima organizzazione dei servizi da garantire ai cittadini. Io ricordo che stiamo parlando di trasporto pubblico locale, stiamo parlando di mobilità e stiamo parlando soprattutto di un diritto sancito dalla Costituzione. Oggi assistiamo, come da nostre denunce sistematiche, a soppressioni di servizi che attengono sia il trasporto ferroviario che il trasporto su gomma, perché qui stiamo parlando di una società che espleta sia il trasporto su ferro che il trasporto su gomma. Abbiamo assistito nel corso di questi anni, ormai tu è nata da tre anni, a soppressioni di servizi derivanti sia da aspetti legati alla carenza di personale, e quindi alla carenza di macchinisti piuttosto che alla carenza di autisti, ma anche a questioni che attengono la scarsa qualità degli autobus, dei mezzi adibiti al trasporto pubblico, che hanno impedito di fatto l'erogazione regolare dei servizi. Lo sciopero è uno sciopero di quattro ore. Per quanto riguarda i servizi da garantire ai cittadini ci sono delle fasce. Lo sciopero verrà articolato nella fascia che va dalle ore 9 alle ore 13, per quanto concerne i servizi pubblici essenziali, quindi il trasporto pubblico locale.